Ciao a tutti, sono Teresa Martino, 20 anni e sono di Pompei. Sono una studentessa di psicologia e spero presto di raggiungere questo obiettivo e successivamente approfondire il campo del cinema. Che dire, sono una ragazza solare, molto umile e spero che questa umiltà mi possa portare tanto lontano. Quindi votatemi!